Aprile è un mese fondamentale per gli sport americani. Il baseball è appena iniziato con le prime partite di regular season, ma l'HL entra nella fase finale nel vivo, nella fase calda. Si entra nei play-off, nella Road to the Stanley Cup Final. Chi sarà il team vincitore di quest'anno e chi sarà in grado di scalzare eventualmente i Colorado Avalanche campioni in carica? Lo scopriremo al termine di una lunga serie di play-off che parte da domani, 17 aprile, in tutte le arene delle 16 squadre qualificate a questi play-off 2023 dopo 82 partite di regular season. Torna dunque l'appuntamento con l'Occhi su Ghiaccio qui sul mio canale dopo un anno e, come l'anno scorso, sarà lo stesso filone esattamente del 2022. Quindi questo video è di presentazione ai play-off 2023, vedendo anche come sono arrivate le 16 squadre a qualificarsi in questa post-season. Prima dell'inizio della Stanley Cup ci sarà invece il video di presentazione della finale e poi al termine della Stanley Cup avremo ovviamente il commento su chi effettivamente ha vinto. Campioni in carica, ricordo ancora una volta, i Colorado Avalanche che hanno vinto in sei partite la serie scorsa contro i Tampa Bay Lightning. Ancora una volta queste due sformazioni sono qualificate a questi play-off ma andiamo con ordine perché spiegare come le squadre arrivano ai play-off NHL non è magari così semplice e dunque arriva la parte di divulgazione. E parte dalle classifiche della regular season, sappiamo che la NHL ha 82 partite di regular season esattamente come in NBA e come appunto in NBA abbiamo due conference, la Eastern e la Western. Per ogni conference si qualificano otto squadre, quindi abbiamo le prime tre di ogni divisione, anche nell'hockey come nel baseball ci sono le divisioni e poi oltre le migliori tre squadre di divisione ci sono anche due wild card che sono di fatto le due migliori squadre non vincitrici della division. L'hockey ha un'ulteriore particolarità, sappiamo che la regular season non va calcolata in percentuale di vittorie bensì in punti un po' come nel calcio. La vittoria per ogni squadra vale due punti, la sconfitta vale zero, la sconfitta invece ai tempi supplementari o ai tiri di rigore vale invece un punto. Per questo motivo i Carolina Hurricanes per esempio hanno totalizzato 113 punti e hanno vinto la Metropolitan Division della Eastern Conference, i Boston Bruins invece hanno totalizzati 135 e hanno vinto l'Atlantic Division sempre della stessa Conference. I playoff poi vengono strutturati in questo modo, le banalmente seconda e terza di ogni divisione si scontrano subito al primo turno dell'accoppiamento più facile, per creare invece gli ultimi due accoppiamenti andiamo un po' sul complicato perché di fatto la peggiore squadra vincitrice di division, quindi la peggior numero uno sostanzialmente, si becca la miglior wild card, mentre la miglior squadra della Conference si becca la peggiore wild card. Per questo motivo abbiamo accoppiamenti come Boston Florida Panthers e Carolina Hurricanes New York Islanders. Per fare un ricapitolo allora delle 32 squadre che hanno fatto questa stagione andiamo a vedere nello specifico ogni singola divisione brevemente, prima di spiegare ogni accoppiamento per questo primo turno e come si svolge. Partendo appunto dalla Eastern Conference, Carolina vince la divisione per un solo punto a discapito dei New Jersey Devils, che dunque si beccano un accoppiamento scomodissimo, ma ovviamente ne parleremo. 113 punti per New York, 112 per quanto riguarda i New Jersey Devils e 107 per quanto riguarda i New York Rangers. Dall'altra parte invece abbiamo chi vi ha vinto il President Trophy della Eastern Conference, ovvero i Boston Bruins, una squadra in missione che hanno vinto 65 partite su 82 record ogni tempo per quanto riguarda la NHL moderna e non solo 135 punti per la squadra di Jim Montgomery, veramente una corazzata. Toronto fa comunque una buonissima stagione ed è seconda a 111 punti e Tampa Bay Lightning invece vincono l'ultimo posto utile di qualificarsi direttamente ai playoff con appunto 98 punti, 5 di vantaggio su New York Islanders, il miglior wild card. La seconda wild card invece se la beccano i Florida Punders, un po' a sorpresa, che non erano dati evidentemente con i favori del pronostico, ma il suicidio dei Pittsburgh Penguins di fatto nel finale di stagione relega la formazione di Pittsburgh, che io tifo peraltro come prima esclusa dei playoff a pari merito con i Buffalo Sabres e invece regala una qualificazione insperata ai Florida Panthers che non sono più la squadra schiacciassassi dello scorso anno ma sono una squadra molto più ridimensionata. Da Pittsburgh io sono tutte eliminate, quindi salutiamo Pittsburgh e Buffalo con 91 punti, gli Ottawa Senators con 86, ma Ottawa è una squadra in crescita e molto futuribile. Salutiamo anche i Detroit Red Wings che stanno facendo anche loro un processo di rifondazione e hanno fatto evidentemente qualche progresso rispetto alle stagioni disastrose degli altri anni. Chi ha deluso moltissimo nell'Estar Conference è stato Washington, i Capitals non vanno ai playoff nonostante uno Zara, Alessandro Viechkin assolutamente in conto di Dio, Philadelphia, Montreal e Columbus chiudono direttamente la classifica con squadre che in realtà non avevano neanche troppe ambizioni alla vigilia di questi playoff. Da tifoso Penguins sono abbastanza rammaricato perché oltre il suicidio di base arrivato nei finali di stagione viene a mancare la streak di 16 apparizioni consecutive ai playoff in questa stagione, quindi niente da fare purtroppo per Sid The Kid, Sidney Crosby e compagni. Nella Western Conference andiamo invece nella Central Division dove i Colorado Avalanche hanno confermato il primo posto di division anche se non hanno vinto il trofeo come miglior squadra a Ovest, quelli l'hanno vinto i Vegas Golden Knights. Comunque Colorado è prima con 109 punti, un solo punto di vantaggio sui Dallas Stars e di fatto 6 sui Minnesota Wild, ultima qualificata direttamente tramite divisione ai playoff. è stata una Western Conference molto livellata verso l'alto anche se ovviamente in un computo di playoff avanzati probabilmente le squadre sono sempre quelle a est invece quest'anno il macello sembra veramente un po' più totale. Nella Pacific Division invece vince la squadra di Las Vegas i Golden Knights giudicano il President Trophy avendo autorizzato più punti tutta la Western Conference con 111 a due punti di distanza abbiamo gli Edmonton Oilers e poi i Los Angeles Kings in un bellissimo accoppiamento con la squadra di Conor McDavid e compagnia bella. Le Wild Card sono di fatto delle semi sorprese una è una sorpresa clamorosa e sono i Seattle Kraken squadra di fatto appena nata i Seattle Kraken sono alla sola seconda stagione in NHL e subito pronti via 100 punti migliorando di praticamente più di 50 lunghezze il record dell'anno scorso e ultima qualificata tramite Wild Card i Winnipeg Jazz che erano molto in difficoltà si poteva temere un rientro dei Calgary Flames che però per due soli punti sono fuori dai playoff e anche i Nashville Predators un po' hanno qualcosa da rammaricarsi visto che il distacco è di fatto di tre punti anche se vedo che i Nashville Predators da quando hanno svenduto praticamente tutti hanno fatto una cavalcata quasi insperata e sono arrivati proprio allo sprint però non è bastato la quota di 92 punti tutte le altre squadre sono di fatto fuori i Vancouver Canucks con 83 punti quello che resta dei St. Louis Blues con 81 punti i St. Louis Blues sono di fatto quello che resta appunto della squadra che ha vinto il titolo nel 2019 gli Arizona Coyotes sono di fatto ultra fuori a 70 punti stesso discorso per i San Jose Sharks i Chicago Blackhawks ahimè e gli Anaheim Ducks fa sempre specie vedere Chicago così in fondo una squadra che nei primi anni 2010 ha creato veramente una dinastia ma evidentemente adesso i valori sono altri tutto questo spiegone incredibile sulle classifiche sulla regola della season come funziona per arrivare evidentemente ai playoff di questa NHL 2023 playoff che ricordo partono per quanto riguarda lo che ghiaccio il 17 di aprile tradotto domani con appunto gli accoppiamenti che abbiamo visto vedremo Boston Bruins, Florida Panthers Toronto Maple Leafs contro Tampa Bay Lightning Carolina Hurricanes, New York Islanders e per quanto riguarda l'ultima partita New York Rangers contro New Jersey Devils a Est a ovest invece vedremo Colorado Avalanche contro Seattle Krakens Dallas Stars contro Minnesota Wild Las Vegas Golden Knights contro Winnipeg Jazz e infine gli Edmonton Oilers contro i Los Angeles Kings a differenza del baseball invece per quanto riguarda la postseason dove ogni turno ha una durata diversa qui invece si gioca al meglio delle sette praticamente per tutti i playoff dal primo turno alla finale quindi chi vince quattro partite nella serie va avanti chi ne perde quattro ovviamente è fuori e andiamo a vedere questi accoppiamenti prendendo come al solito il sito di ESPN partendo evidentemente dalla Easter Conference il primo accoppiamento dell'Atlantic Division è il seguente la numero uno del seed i Boston Bruins affrontano i Florida Panthers l'anno scorso sarebbe stato uno scontro molto interessante con magari un pronostico più equilibrato in questo caso invece il pronostico mi sembra abbastanza chiuso perché la differenza tra questi Bruins e questi Panthers è evidentemente troppa i Bruins ricordo ancora una volta non solo hanno vinto il President Trophy probabilmente una delle squadre più titolate per vincere il trofeo della regular season ma l'hanno fatto dominando veramente chiunque 65 vittori 82 partite non si è praticamente mai visto record ogni tempo i Bruins sono veramente una squadra dedicata e costruita per la Stanley Cup Final probabilmente sono assieme a Colorado Avalanche le due formazioni che hanno forse una spanna in più e sarebbe probabilmente anche la mia finale preferita contro questi Panthers francamente non vedo possibilità se non un 4-0 facile o 4-1 se proprio dovesse succedere che a Florida o meglio a Sunrise i Panthers dimostrino evidentemente qualcosa di orgoglioso ovviamente a tenere d'occhio per quanto riguarda i Bruins sono ovviamente David Marchand o Brad Marchand scusatemi Patrice Bergeron il capitano soprattutto David Partesnak il centro cieco che ha fatto 60 gole 51 assist 111 punti totali dall'altra parte comunque un poderoso Matthew Kachak uno dei miei giocatori preferiti va detto anche se probabilmente sembra un pochino predicare nel deserto si parte con il solito schema che è 2-2 1-1-1 prima delle partite al TD Garden di Boston e poi si giocheranno due match a Sunrise e poi alternandosi fino all'eventuale gara 7 secondo attropiamento dell'Atlantic Division è Toronto Maple Leafs Tampa Bay Lightning è di fatto la rivincita dello scorso anno con appunto i Lightning che hanno vinto in 7 partite contro i Toronto Maple Leafs che hanno costruito tanto ci hanno messo un sacco di tempo a creare una squadra competitiva per il playoff adesso che ce l'hanno fatta hanno l'obbligo praticamente morale di vincere visto che comunque i Maple Leafs non vincono da tempo in memore è una partita è una serie molto ma molto equilibrata non vedo l'ora di vederla mi auguro che finisca la settima anche quest'anno i migliori scorer per quanto riguarda i Maple Leafs sono tantissimi Austin Matthews Mitch Marner soprattutto con 99 punti 30 gol e 69 assi dall'altra parte vero viene segnato Nikita Kucherov con 113 punti però ci sono tantissimi altri giocatori di sistema che possono fare benissimo in questa Tampa Bay è vero non è più la Tampa Bay degli ultimi anni che era una semi corazzata perché il Salary Cup comanda anche l'NHL però sarà molto ma molto interessante vedere il rematch dello scorso anno proseguendo invece per la Metropolitan Division e andiamo nella parte bassa del tabellone i Carolina Hurricanes di Sebastian Ajo vanno ad affrontare i New York Islanders che si sono qualificati un po' per il rotto della cuffia in quel macello terribile che era l'est come abbiamo visto nella classifica della regular season alla fine probabilmente è uno scontro molto equilibrato in generale la Metropolitan Division ha una serie di incontri molto equilibrati faccio fatica a dare un pronostico vedo più messi meglio diciamo così i Carolina Hurricanes rispetto ai New York Islanders perché hanno avuto più solidità nel corso della stagione attenzione però gli Islanders che sono abituati a questi playoff e possono evidentemente fare l'upset da tenere d'occhio Martin Natchez 71 punti per quanto riguarda gli Hurricanes e Brock Nelson per quanto riguarda i New York Islanders attenzione però in generale a Carolina che è più un collettivo rispetto evidentemente a questi New York Islanders rimaniamo a New York rimaniamo in realtà nell'area circoscritta perché parliamo adesso del derby una delle partite una delle serie più belle da vedere per quanto riguarda l'occhio su ghiaccio americano parliamoci chiaro New Jersey Devils e New York Rangers si detestano e il derby per eccellenza sono due squadre che lì sono a 15 chilometri di fatto 15 miglia meglio scusatemi l'una dall'altra si parte a giocare al production center di New York New Jersey per poi andare al Madison Square Garden per le due partite di ritorno in attesa di eventuali gare 7 ecco questa è una serie che io voglio vedere a gara 7 è vero che secondo me il pronostico è sulla carta favorevole ai Rangers ma questi New Jersey Devils hanno fatto veramente un grande rimbalzo in avanti rispetto allo scorso anno hanno Jack Hughes in formato divino hanno un sacco di giocatori forti e un sistema che funziona soprattutto sfruttando le stelle e i giocatori giovani i Rangers sono un'altra corazzata probabilmente secondo soltanto ai Boston Bruins qui viene segnalato Artyom Impanarin che è uno dei russi molto più forti di quest'anno dei New York Rangers ma i Rangers hanno fatto una campagna acquisti clamorosa basta pensare che per rinforzarsi dal mercato di riparazione invernale è arrivato Patrick Kane uno che la Stanley Cup l'avrebbe anche vinta con i Chicago Blackhawks insieme a Jonathan Taze peraltro notizia di pochi giorni fa che Taze lascerà la formazione di Chicago in attesa di lì di migliori giusto per non farsi mancare niente a prop parentesi i Rangers hanno comprato anche Vladimir Tarasenko stella superstar degli ex oramai St. Louis Blues passiamo invece a Ovest il primo accoppiamento è un accoppiamento molto interessante perché abbiamo una delle formazioni favorite a Ovest per arrivare fino in fondo ovvero è collocato a Avalanche contro la più grande sorpresa della stagione 2020 ovvero il Seattle Kraken alla seconda stagione di vita perché i Kraken sono nati nel 2022 sono arrivati evidentemente ad arrivare in playoff mode ed è veramente qualcosa di clamoroso una formazione del genere non si vedeva probabilmente nei tempi di Las Vegas ma Las Vegas fu un caso eccezionale che al primo anno arrivò in finale i Kraken hanno fatto una campagna acquisti nell'estate molto molto mirata e interessante hanno un Jared Can in formato extralusso 70 punti ed è un giocatore giovane Seattle ha una formazione molto giovane e di talento quindi attenzione perché Seattle è parecchio futuribile non è invece da scoprire Colorado sappiamo che è una formazione da macchina non come i Boston Blues di quest'anno ma siamo forse un pelino sotto forse potremmo comparare le New York Rangers è vero che comunque gli Avalanche hanno qualche giocatore infortunato vedi il capitano Landerskog però attenzione a Mick Corantanen Nathan McKinnon il trio della paura praticamente attenzione a questi Avalanche che potrebbero avere tutte le carte in regola per vissare il titolo vinto l'anno scorso il secondo accoppiamento invece rimanendo sempre nella Metropolitan Division è molto interessante perché abbiamo i Dallas Stars contro i Bellasota Wilde e Dallas Stars hanno scoperto questa superstar molto giovane di nome Jason Robertson che pronti via 109 punti in stagione veramente un giocatore di 22 anni giovane futuribile che può fare le fortune evidentemente degli Stars non scopriamo invece da oggi Kili Kaprizov 75 punti per il russo e sarà lui il go-to guy di uno scontro che secondo me è abbastanza pannaggio dei Dallas Stars vedremo però ovviamente come si svilupperà una serie che non è scontata però ovviamente sappiamo come sono fatti i nostri pronosti ovvero praticamente da essere smentiti incontro della Pacific Division invece vede di fronte la numero 1 del seed dalla parte basso del tabellone ovvero i Vegas Golden Knights contro i Winnipeg Jazz formazione che è arrivato il playoff come abbiamo detto per il rotto della cuffia i Golden Knights va detto hanno un pronostico secondo me abbastanza chiuso a loro favore non dico possa essere una partita in 4 1-2 ai Jets ve li possiamo dare perché comunque è solo una squadra che è vero che sono stati in difficoltà ma comunque nei playoff sapete che può cambiare veramente tutto tenere d'occhio per quanto riguarda i Golden Knights Jack Eichel con 65 punti al netto che questo valore è molto relativo perché i Vegas Golden Knights hanno fatto una stagione finale quantomeno non così al completo hanno avuto molti giocatori infrontati ma sono letteralmente una squadra e di altissimo livello dall'altra parte Kyle Conner ha totalizzato 80 punti in una singola stagione 31 gol e 49 assist ultimo incontro chiudiamo con uno scontro tra gli Edmonton Oilers e i Los Angeles Kings il pronostico in questo caso è a favore degli Edmonton Oilers che possono contare su un Condor McDavid in formato extra lusso che ha totalizzato 152 punti nella stagione 64 gol e 88 assist numeri da capogiro per il fenomeno canadese ma sappiamo come Edmonton possa contare su tre giocatori da 100 e più punti oltre a McDavid abbiamo anche Leon Dreisaitl il tedesco e anche Ryan Nugent per una Edmonton che non dovrebbe avere in realtà diciamo dei pronostici abbastanza aperti diciamo con altre formazioni questo primo turno con i Kings in realtà lo vedo abbastanza a favore degli Edmonton Oilers ma attenzione all'orgoglio di Anse Copitar il fenomeno sloveno capitano dei Kings che li ha portati ancora una volta ai playoff con 72 punti stesso punteggio di Kevin Fiala altro super giocatore per quanto riguarda i Los Angeles Kings anche se ovviamente Copitar ha fatto 4 gol in più rispetto a Fiala ma comunque è una partita che secondo me potrà finire tranquillamente in 6 si parte a giocare a Edmonton per poi andare a Los Angeles e si gioca ovviamente allo Staples con l'atmosfera assolutamente da brividi queste sono diciamo le previsioni per quanto riguarda i playoff sarà veramente un macello per tutte e 16 le squadre che sono arrivate fino in fondo sarà divertente trovarci poi tra un mese circa quando la Stanley Cup Final avrà inizio per vedere chi sarà arrivato a contendersi il titolo 2023 ricordo ancora una volta i Colorado Havana sono campioni in carica e hanno battuto i Tampa Bay Lightning per 4-2 che sarà quest'anno sollevare il mega trofeo lo scopriremo evidentemente a maggio in ogni caso tra un mese ci ritroveremo a vedere come sono andati questi playoff 2023 in attesa della finale il saluto da parte di Matthew Thorgaard ci vediamo al prossimo video